Importanti azioni migliorative riguardano l'accesso al circuito Marconi. L'assessora allo sport del comune di Fano, Barbara Brunori, ha illustrato le nuove modalità di fruizione della pista collocata nel cuore cittadino. Partiamo proprio dai ciclisti anche perché questo circuito è a loro dedicato, ospitando poi anche tutta la parte della città. A partire da giovedì 3 marzo, come da ordinanza del 2020, il martedì e il giovedì l'orario sarà interdetto dalle ore 17.30 alle ore 19.30, mentre il sabato dalle ore 16.30 alle 18.30. Questo perché? Perché chiaramente dovendosi allenare la società ciclistica Alma Juventus, proprio per favorire la sicurezza di tutti, ha bisogno necessariamente di poter girare in sicurezza e quindi di non mettere in pericolo né la loro incolumità ma neanche quella di chi eventualmente lo frequenta. L'accesso sarà comunque garantito ad atleti, arcieri e ai fruitori degli impianti di baseball. Inoltre, sempre con l'ottica di migliorare la sicurezza di chi lo frequenta, è stata potenziata l'illuminazione pubblica con un nuovo punto luce nel parcheggio del circuito. Un'altra importante novità di questo circuito ciclistico è proprio quella che a partire da oggi ci sarà accessibilità per le persone con disabilità attraverso questo cancello. Quindi abbiamo dotato il gestore del circolo tennis dalle 8 della mattina alle 20 della sera di più chiavi che saranno a disposizione di tutte le persone che naturalmente vorrebbero accedere, cosa che fino ad oggi non era affatto possibile. Per cui ringrazio anche il centro documentazione, il CDH, che naturalmente sta già predisponendo tutte le associazioni e anche le famiglie di questa informazione e quindi ci sentiamo contenti. Oltre questo, un'altra miglioria che partirà da questa settimana è proprio la sostituzione di tutta la recinzione del circuito del baseball che per favorire a campionati nazionali naturalmente ha bisogno di un perimetro un po' più ampio e in sicurezza. Grazie.